Buongiorno ragazzi, questa mattina mi sento un po' sotto sopra, c'è un po' di agitazione, voi immaginate anche il perché? Sto andando a fare la conferenza stampa, ciao! Sto andando a fare la conferenza stampa, c'è un po' di agitazione 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 stampa. E quindi sono molto felice appunto di farmi vedere quello che è successo a New York. Le foto le ho scattate con Kat Eri, che è una fotografa pazzesca, super simile. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. La sintesi più onesta e sincera del percorso che ho fatto, forse dal primo giorno che ho deciso di fare questo mestiere ad oggi, è quello che ho maturato, è quello che sento veramente dentro. E quindi... La sintesi più onesta e sincera del percorso che ho fatto, forse dal primo giorno che ho deciso di fare questo mestiere ad oggi, è quello che ho maturato, è quello che sento veramente dentro. E quindi... Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Sono molto contenta. Avete ascoltato dieci tracce del disco, la undicesima ci tengo a farvela ascoltare dal vivo, e sorrido lo stesso, il brano che ho scritto io, e che credo sia la sintesi, non dico perfetta, ma la sintesi più onesta e sincera del percorso che ho fatto, forse dal primo giorno che ho deciso di fare questo mestiere ad oggi. Grazie.